salve a tutti i ragazzi e amici del mare sono letteralmente ipnotizzato da questa meraviglia mare calmissimo adesso immergerò in questo specchio d'acqua diciamo che è uno spot nuovo per me non ho mai battuto questa zona ho con me il raffio retino e fucile vediamo che succede oggi un'altra cosa Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mia pescata finisce qui, comunque ci accontentiamo, è uscito questo bellissimo marvizzo, questo bellissimo verdone e poi ho raccolto questa prelibatezza direttamente dagli scogli. Sono delle patelle anche proprio di ottima pezzatura, è difficile trovarle così grosse. Un abbraccio a tutti, alla prossima.